Gentili telespettatori, buona giornata. In Texas una coppia di sposi chiede 400 dollari agli invitati. Non si è capito se era ad ogni invitato o ad ogni famiglia, però chiedevano soldi perché dovevano recuperare quanto speso, 200.000 dollari per il matrimonio. E per pareggiare i conti la coppia di giovani sposini di Houston ha chiesto agli invitati un contributo di 400 dollari per partecipare alla cerimonia. Come è andata a finire? Beh, non benissimo, dato che alla festa non si è presentato nessuno degli invitati. Perché essere invitato voleva dire pagare 400 dollari più il regalo. Quando la gente ha detto con quei soldi ci vado a mangiare da un'altra parte senza che nessuno mi obblighi a pagare. Voi cosa ne pensate? Chi ha ragione? Gli invitati o i festeggiati che dovevano recuperare i 200.000 dollari per il matrimonio? Torta, deposito del locale, l'abito da sposa, quindi volevano farsi ripagare tutto dagli ospiti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.